Il fondo a colori di questa immagine mi rappresenta le quote sul livello del mare. I colori arancioni arrivano fino a 18 metri sul livello del mare, 18-19 metri sul livello del mare. I colori invece più scuri, più sul viola, arrivano sui 9 metri. Vedete come la zona con i colori gialli e arancioni, cioè la zona più rilevata, cioè la zona che sta sostanzialmente al di sopra dei 12-13 metri sul livello del mare, corrisponde proprio al centro storico di Padova. Perché questo? Perché in questa zona l'uomo ha abitato per tre millenni, ha costruito le abitazioni sopra i residui dell'abitazione degli edifici precedenti e tutto questo ha creato un progressivo innalzamento della superficie della città. Questo è perdurato anche in età medievale. Il risultato netto, se conoscete Padova o se volete visitare Padova, è il fatto che in alcune zone le strade non sono piatte, ma hanno una certa pendenza, che la sentite anche camminando. Se andate in bicicletta la sentite ancora meglio, perché alcune discese le potete fare senza pedalare, perché siete proprio state scendendo dalla sommità di questa piccola collina, di questa bassa collina, verso le aree della pianura circostante. Per quale motivo abbiamo questa zona rilevata all'interno del centro storico di Padova? Perché abbiamo un accumulo di depositi archeologici. Quindi la pianura che noi abbiamo ricostruito attraverso questi dati di scavi archeologici, ma anche attraverso carotaggi geologici, veri e propri sondaggi geologici, ci si dà una pianura che era abbastanza leggermente ondulata, ma sostanzialmente pianeggiante, eventualmente con delle depressioni allungate, che non sono altro che le tracce di percorsi fluviali precedenti, i cosiddetti paleoalvei. Ma tutto ciò che costruisce questa collina, che qui possiamo vedere in un profilo topografico attraverso la città stessa, tutto questo spessore è costituito da depositi archeologici, che vanno dall'età del bronzo fino al Medioevo. Quindi proprio vediamo lo spessore della... Vediamo proprio lo spessore. Quindi questo risultato è grazie a questo tipo di dati. Ogni punto è un cosiddetto punto di controllo. Se voi volete avere una visione diretta di quella che è la stratigrafia archeologica nel sottosuolo di Padova, ci sono tre punti in cui questo è possibile. Uno dei punti è nel sotterraneo di Palazzo della Ragione, dove abbiamo anche la pavimentazione di una domus romana, che è ancora presente e visitabile. Qui abbiamo un bar nel cui semi-interrato c'è un tratto di strada romana. In Piazza Duomo. In Piazza Duomo. E qui siamo nella banca, l'ex banca Anton Veneta, adesso Monte Paschi di Siena, nel cui sotterraneo di nuovo troviamo delle evidenze di strutture viarie, sempre di età romana. Quindi in questi tre punti, segnati in viole, è ancora possibile toccare con mano quello che erano i piani di Calpestio fino all'età romana, diciamo. Questi punti sono siti archeologici scavati negli anni dalla soprintendenza archeologica. Padova ha una grande e veramente virtuosa storia di tutela del patrimonio archeologico sotterraneo. Quando venivano fatti e quando vengono fatti degli scavi cosiddetti di emergenza, vuol dire scavi edili, scavi infrastrutturali, per costruzioni, garage, cantine, nuovi edifici, c'è sempre la cosiddetta sorveglianza archeologica. Ci sono degli archeologi professionisti che seguono questi scavi. Questo negli anni ha permesso di veramente avere un ricchissimo database di quello che sono le caratteristiche archeologiche del sottosuolo di Padova. Questo volume è Padova Sotterranea e riguarda specificatamente le mura, quindi i sotterranei delle mura. Il mio piccolo contributo a questo volume è stato proprio cercare di legare la geometria delle mura con quella che era l'assetto geomorfologico del territorio. Quando si dice geomorfologico, sembra una parola strana. In realtà stiamo parlando del paesaggio, il paesaggio dal punto di vista fisico, quindi dove avevamo i fiumi, dove c'erano tracce antiche di fiumi che non ci sono più, cose di questo genere. L'archeologia dei paesaggi, landscape, archeologi... Quella che è, diciamo, la base fisica su cui si sviluppano anche le attività umane. E le attività umane antiche, questa è la cosa forse più interessante, è che le attività umane antiche, anche non antichissime dal punto di vista, voglio dire, anche in età medievale, potevano agire in un contesto di paesaggio fisico che poteva essere anche molto diverso da quello attuale. Ad esempio, da questa pianta in cui si riconoscono chiaramente le mura di Padova, cosa si capisce dal punto di vista geomorfologico o geoarcheologico? Dal punto di vista geomorfologico si vede quello che i padovani e i visitatori della città di Padova purtroppo non vedono più, cioè il fatto che la città era attraversata completamente da questa doppia curva del fiume, del fiume Bacchiglione, e tutto quello che è in viola, in questa immagine, è stato tombinato moltissimo nel ventesimo secolo, a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Quindi tutto, i viola sono i canali, i navi, sono i canali che erano e che non sono più, sono delle strade adesso. Questa, per capirci, è la riviera, non a caso appunto, sono le cosiddette riviere, d'accordo? Si chiamano riviere, anni 50-60. Proprio così, proprio così. E qui gli altri sono gli effetti combinati, poi via via di una città che tutto sommato dell'acqua non sa tanto cosa farsene, i trasporti terrestri li prendono via via piede e anche se vogliamo, per ragioni anche igieniche, l'igiene pubblica, vengono via via chiuse. Però in questo modo abbiamo una visione immediata della città che è molto diversa da quello che era fino all'età medievale ma fino all'età moderna come possiamo vedere in questa pianta. Quindi, le mura sono le mura cinquecentesche quindi che ci danno anche un po' la visione d'insieme anche ci aiutano a capire dove siamo all'interno della città di Padova e qui siamo proprio nel centro storico. Queste sono le piazze, questo è il palazzo della ragione per capirci. Qui abbiamo Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori, qui Piazza Duomo per citare un po' i posti che si conoscono di più. Questa è l'università. Cosa sono quei punti? Ecco, questi punti sono l'ossatura, la base del lavoro che abbiamo fatto su Padova. È un lavoro di tipo geomorfologico cioè ricostruire quelle che erano le caratteristiche originarie della pianura all'inizio dell'insediamento della città. È una città con delle origini molto antiche. I primi sparsi insediamenti sono dell'età del bronzo finale e la città diventa un insediamento urbano nell'età del ferro e poi in età romana è un importante centro urbano e poi la storia continua evidentemente in età medievale. abbiamo potuto avere accesso a questi dati e attraverso un progetto congiunto con la subintendenza archeologica grazie appunto al finanziamento della fondazione Cariparo e ci siamo focalizzati su un ben preciso su una ben precisa tipologia di dato archeologico che sono tutti quegli elementi archeologici che mi danno la posizione nelle tre dimensioni quindi nello spazio ma anche in altezza sul livello del mare dei piani di calpestio vuol dire soglie di porte vuol dire focolari vuol dire selciati stradali e ecco tutti quegli elementi che mi dicono il piano di calpestio vuol dire la superficie su cui le persone al tempo si muovevano e vivevano era in questo punto a questa quota perché questo perché ci siamo resi conto guardando appunto le stratigrafie archeologiche disponibili che la città di Padova mostra una stratificazione verticale delle diverse epoche molto molto netta e questa stratificazione verticale archeologica si accompagna ad una morfologia e qui ritorniamo al nostro essere geomorfologi a una morfologia rilevata rispetto alla pianura circostante perché perché una ricerca di questo genere beh innanzitutto per sapere per conoscere per capire quali erano le condizioni iniziali che hanno visto i primi insediamenti e li vedete ricostruiti qui in questo in questo riquadro in cui abbiamo un fiume che fino all'età del bronzo era ancora il fiume Brenta che passava attraverso l'attuale area urbana di Padova con le sue caratteristiche barre di meandro ventagli di rotto tutta una serie di elementi geomorfologici tipo fluviale in cui abbiamo i due siti noti in quest'area e poi per conoscere come è andato costruendosi la città in termini proprio geometrici dove la geometria evidentemente riflette anche quali erano le zone di maggior interesse per le società che vivevano che abitavano che abitavano questo insediamento quindi vediamo per esempio come al passaggio dal inizio dell'età del ferro fino alla piena età del ferro noi abbiamo un forte accrescimento verticale lo vedete di nuovo con i colori e con dei numeri che sono i metri sul livello del mare delle zone che stanno all'interno dei due meandri e questo è perfettamente coerente con quello che è noto anche dal punto di vista archeologico guardando diciamo le stratigrafie i materiali dei siti archeologici e questa tendenza si mantiene anche poi fino all'età e all'età romana quindi diciamo dall'età del ferro e all'età romana abbiamo questa tipica situazione notate come per esempio lungo il fiume e il fiume di Padova in età dell'età del ferro e l'età romana era già il bacchiglione quindi lungo quello che erano le sponde del bacchiglione vedete che ci sono delle zone golenali che rimangono sempre e sistematicamente poco insediate e questo ha senso sono le zone di normale esondazione del corso d'acqua magari sono zone adibite a magazzini chiaramente sono fantasia queste però possiamo immaginare una zona legata a delle quello che sappiamo che sono zone legate non sono zone dove sono stato costruito diciamo dove sono stati costruiti gli edifici altra cosa interessante è vedere come questo snodo che vediamo presente dall'età del ferro poi anche in età romana prima età romana poi età imperiale secondo secolo dopo Cristo sia il punto dove abbiamo il ponte di San Lorenzo che è il ponte di età romana e che fa un po' da pari al ponte di Via Altinate quello davanti a Porta Altinate che è un altro ponte forse un po' risistemato ma insomma di probabile età romana quindi noi abbiamo che come dire guardando come era fatta la città si esce a fare delle ipotesi anche sull'uso funzionale dei diversi quartieri e poi c'è un secondo aspetto che forse anche più importante dal punto di vista generale dal punto di vista della nostra società cioè il fatto che noi lavorando in questo modo abbiamo creato delle mappe delle mappe digitali in cui in ogni punto sappiamo con un certo grado di accuratezza di determinazione di determinatezza che possiamo quantificare sappiamo a che profondità si trova il livello romano sappiamo a che profondità si trova il livello della primetra del ferro oppure il livello del sesto secolo avanti Cristo e questo lo vediamo in queste in queste altre mappe in cui abbiamo la profondità questi sono metri 6, 5, 4 metri di spessore dei depositi vuol dire che in questa zona abbiamo 7 metri di depositi e sotto questi 7 metri di depositi abbiamo la pianura alluvionale ci spostiamo e andiamo a vedere che qui siamo e abbiamo il livello dell'età del ferro lo troviamo attorno a 5, 6 metri di profondità il punto 5 topograficamente è? 5 sono questo 5 indica che questa linea è lo spessore di depositi spessi 5 metri ma qui dove siamo in questo momento? in questa zona qui siamo questo è palazzo della ragione qui siamo al ghetto qui siamo nel ghetto diciamo in questa zona qui e vedete ecco vedete questa cosa si mantiene anche per esempio per l'età romana quindi noi sappiamo che a questo punto nella zona del duomo che fatemi trovare il duomo dovrebbe essere qui noi abbiamo i livelli romani che sono a circa 3 metri di profondità che